Ando 11 aprile 2019, la zuppa di porro, vediamo subito di che cosa. Intanto saluto gli amici che si sono collegati su Instagram, Nicole, Diego, Antonio, Giuseppe, insomma tanti si sono già arrivati. Scusate, oggi sono un po' spettinato, ma per la prima volta si riprende qua a giocare a tennis, quindi forse mi rimetterò un po' in forma. Cosa sta succedendo oggi sui giornali? Beh, ve lo dico subito. La cosa che mi diverte, a me piacerebbe fare un giornale alla Daily Mail. Daily Mail, buongiorno a Barbara e Antonio. Il Daily Mail è un giornale che se ne frega assolutamente delle cose che scriviamo noi sui giornali, anche della loro Brexit. Oggi fanno un'apertura su un caso di un loro, diciamo un caso molto di cronaca nera interna alla Gran Bretagna. Il buco nero per loro finisce con una grafica stupenda a pagina 20. Invece noi anche il buco nero riusciamo a renderlo noioso, che potrebbe essere una cosa straordinaria. E quindi Repubblica ce lo mette in prima pagina con i figli di Hawkins, che dice che è peccato che papà non ha visto il Corriere della Sera. Insomma, l'unico buco nero che è interessante oggi forse era quello sui conti pubblici. Mi sembra, Hug, Giorgio, ti vedo che sei tornato. Il buco nero sui conti pubblici ne parlano un po' tutti i giornali. Insomma, io del buco nero oggi mi divertiva molto una pagina. Io vi inviterei, se l'avete, la possibilità di leggere come lo fa il Daily Mail, cioè il giornale popolare, il tabloid inglese, che fa una pagina con i grafici, cosa vuol dire, cosa non vuol dire. Diciamo, a portata di tutti, è le nostre pagine invece in cui i nostri giornalisti scientifici sembrano degli specie di Einstein. Vabbè, comunque sia. Andiamo avanti. Buco nero, per me interesse fare al buco nero. E' fantastico, oggi il fatto riesce a mettere come apertura del giornale la Polanco, che è una delle ragazze che partecipava alle feste di Berlusconi, che quando ha saputo della imam, cioè della modella che poi è morta e di cui loro speravano che fosse morta perché uccisa da Berlusconi, invece purtroppo è morta per cause naturali, la Polanco dice e esclama ma no, il Polonio! Avete capito? Oggi l'apertura del fatto è che c'è un'altra ragazza che esclama no il Polonio e su questo ci sarebbe il giallo. Insomma, veramente imbarazzante. Poi ovviamente non può mancare l'altra terza grande questione. Per me è noiosa, lo dico con rispetto, ma quando leggo queste paginate intere sul Papa, oggi però il Papa è interessante, cioè Benedetto XVI sui problemi della pedofilia nella Chiesa, io vi dico la verità che vado avanti, però è il mio gusto, quindi chi segue la zuppa magari può averne completamente diversi. Io queste tre cose oggi le ho trovate poco interessanti, non che fosse molto interessante il resto, perché sull'economia dicono sempre le stesse cose su questo DEF, che è un libro dei sogni, ma che si dimentica che lo era anche con Renzi, con Gentiloni, con Berlusconi, con Prodi. Il DEF è sempre stato una minchiata. Gabriele Lamonica che ci segue ora, che segue il DEF da quando eravamo piccolini insieme, eravamo all'agenzia di MF e Dow Jones. Ecco, Gabriele, quante volte il DEF ha raccontato numeri che poi si sono verificati veri alla prova dei fatti? Praticamente zero, come il buco nero. Come il buco nero. Invece in questo caso ovviamente si sostiene che il DEF è diventato un depliant. Certo, scrive un sacco di minchiate come quelle a cui siamo abituati. Tra l'altro oggi, solo le 24 ore, nota come la produzione industriale sia cresciuta. Non la trovate sulle prime pagine dei giornali. Ovviamente fa più notizia un albero che cade che un albero che in una foresta si innalza. Però la produzione industriale è lo 0,8% che sale, è un dato positivo per l'Italia, perché probabilmente in questo modo il primo trimestre del 2019 non sarà negativo, però state attenti perché il dato poi se lo vai a leggere bene vede un meno 10% di produzione industriale nel settore automotive, che è quello fondamentale per l'Italia. I dati sono del sole 24 ore ed è fondamentale perché è quello che trae ancora una grande parte della ricerca dell'indotto dei terzisti italiani e della meccanica italiana, anche se non tutta ovviamente. però dimostra come c'è una debolezza in Germania per le auto che derivano dagli scontri commerciali, da questa minchiata che stiamo facendo di abolire il diesel, segnatevelo, minchiata di abolire il diesel, c'è un grande motore che fa l'Europa e faceva la Fiat e fa la Germania che si chiama diesel, c'è un motore grande ma meno efficiente che fa l'America che si chiama motore a benzina e noi abbiamo ceduto alla follia incredibile del gretinismo, cioè di andare sui motori elettrici su cui americani e soprattutto europei non hanno la più palli di idea, ma su questo Greenfield ovviamente i cinesi partono ad armi pari, complimenti a questa minchiata dei motori alla Tesla che sono motori fallimentari. L'altra cosa di giornata interessante, secondo me è più del chiacchiericcio, IVA-SIVA, no, flat tax, oggi c'è Mingardi che ci spiega su Quotidiano Nazionale che la flat tax che fanno questi qua non gli piace, è vero, non è la flat tax che pensiamo noi liberisti, ma tutto sommato voglio dire il meglio è il nemico del bene, o no, iniziamo a farla, iniziamo a portarci a casa una riduzione, per me anche i 300 mila in più, signori in più che pagano la flat tax dai 900 a un milione e due che siamo arrivati oggi di partita IVA è un vantaggio, è un vantaggio, vabbè comunque che cosa vi volevo dire, la vera questione di oggi che mi interessa sono i commenti sulla soluzione di Marino, il sindaco di Roma, il pezzo più interessante come sempre avviene in questi casi lo fa Nordio, sapete per qua? Mai Françoise, una zuppa elettrica non te la farò mai! Susanna, buongiorno, perché è interessante il pezzo di Nordio e ve lo consiglio? perché Nordio cosa dice? Oggi, e noi abbiamo ancora, fino a prova contraria, un codice di procedura perale per il quale all'articolo 533 si dice che una persona può essere condannata oltre ogni ragionevole dubbio, se c'è un dubbio non la puoi condannare ed è il motivo per il quale anche noi ci strappiamo i capelli su cose di cronaca molto chiari, cioè no, ma come hanno fatto? E c'era qualche dubbio e non l'hanno condannato, insomma, proreo è il nostro sistema da questo punto di vista che è a tutela delle nostre libertà. Allora si chiede Nordio, come è possibile che Marino ci mette 4 anni, anche non troppo, per essere assolto dalla Cassazione? Ma la cosa grave è che Marino era stato assolto in primo grado e assalto in primo grado e la procura che cosa fa? Ricorre e lo fa condannare, perché un magistrato lo condanna in secondo grado. Ma può essere questo un sistema? Perché se non ci deve essere alcun ragionevole dubbio, qualche dubbio, gli stessi magistrati l'avevano se lo assolvono in primo grado e lo condannano in secondo grado, o no? Tutto questo perché gli erano stati imputati 20.000 euro di spese personali nell'andare al ristorante. Buongiorno Marco. E questo, pasticci di segreteria, eccetera, io, tra l'altro questi 20.000 euro Marino non li restituisce, insomma, Marino era un pasticcione e io non ho nessun rimpianto di Marino, era un altro ideologico che fingeva di girare in bicicletta per questa città, con la scorta dietro per quella cazzo di moralismo che lui stesso aveva portato in questa città. Ma quando leggo oggi Travaglio che accusa Marino, Travaglio, il fatto, e il Movimento 5 Stelle lo prendevano in giro all'epoca, fecero una campagna tremenda contro di lui, dicendo Marino, tu sei quello che c'aveva, i tuoi assessori indagati e arrestati per mafia capitale, io dico toc toc, ma perché quelli della Raggi oggi quanti gli erano arrestati? Quanti ne ha cambiati? 32. Quanti gli erano arrestati? 8. E il suo presidente del Consiglio Comunale, De Vito, dove sta oggi in galera? Lo stesso che portava le arance a Marino e lo voleva in galera. Ma di che stiamo parlando? A ragione Nordio quando dice che sono 25 anni che viviamo con l'incuo per cui la politica viene determinata dalla magistratura. Almeno, dice Valentina, non ha fermato se a Trillini metropolitana. Cioè, perfettamente ragione, perfettamente ragione. Se lo lasciavate continuare a governare, Marino qualche casino l'avrebbe fatto. Non l'ho mai considerato una specie di fenomeno di Roma. A Roma ci vuole un, come possiamo dire, un commissario. Io vorrei a Roma un, come posso dire, io vorrei a Roma un prefetto dotato di tutti i poteri per tre anni. Magari lo leggiamo pure, vogliamo, senza nessuna magistratura, nessuno che lo controlli, nessuno. Devi andare avanti come una specie di, non c'è un appalto, non c'è... Voi direte, torna a mafia capitale, eccetera. Ma peggio di quello che stiamo vedendo non esiste. Non esiste. Molto divertente è il pezzo oggi su Facebook fatto da Francesco Del Vigo, il vice direttore del giornale che conosce bene Facebook, perché dice, scusatemi avete bloccato Casa Pound, avete bloccato Caio, Caio, Cesare, Mussolini, che si candidano a Fratelli d'Italia. Ma lui dice, io a scuola ho studiato una cosa, cioè che una dittatura, il fascismo in particolare, è quella in cui c'è un solo uomo al comando che riduce al silenzio tutti i suoi oppositori. Esattamente quello che fa l'algoritmo, cioè Zuckerberg su Facebook. Ma insomma, adesso chiudere... Io lo dico con Facebook, mi ospite, in questo momento sto facendo la zuppa, dico e critico Facebook anche su questo. Però ragazzi, state tranquilli. Cioè non è possibile che l'estrema destra, che non vi piace, debba essere censurata. Un saluto romano non è ancora sufficiente, secondo me, per poter chiudere un profilo su Facebook. Chiaro. E' chiaro che poi si tratta di una piattaforma privata. Ma io trovo incredibile, e ha perfettamente ragione, del Vigo, l'atteggiamento censorio che su queste vicende. Guarda caso, sempre dire... Cioè un pugno chiuso si può fare? Un pugno chiuso si può fare? Chiedo a Facebook. Questo si può fare? Perché se si può fare anche questo, mi spiegate quanti morti sono stati fatti per questo pugno chiuso. Di Maio, arrabbiatissimo per le foto sexy della sua fidanzata, ce lo spiega Minzolini, come sempre favolosa, nei suoi retroscena, lo trovate anche questo sul giornale, il quotidiano nazionale oggi fa un'inchiesta bellissima su due casi, uno di Parma e l'altro di Verona, dove due grandi multinazionali scappano per le cazzate burocratiche di questo paese. Scappano! Avevano già investito centinaia di milioni di euro, l'Ikia avrebbe assunto mille persone, perché il magistrato ti ferma, la burocrazia non ti dà il lavoro, c'è incertezza sugli ok. Ecco, questa è l'Italia. Invece di pensare alle grandi cose, al buco nero di Hawkins e di Einstein, pensiamo che se uno vuole investire 300-400 milioni in Italia, non ci riesce, perché ci sarà un modo per bloccarlo. E se sono stranieri, scappano loro che possono. Sono veramente disordinato oggi. Il Fondo Monetario Internazionale si fa una bella pensata, ce la ricorda oggi il sole 24 ore, cioè quello di rifare. Ciao a Pietro, in bocca al lupo, Pietro Tartarella si candiderà alle elezioni, un ragazzo che conosco dai tempi del suo impegno nelle periferie di Milano. Il Fondo Monetario Internazionale se ne inventa una nuova, e cioè quella di tassare le case. Ecco, sapete come fate i tagliari adesso a risolvere i vostri problemi? Tassate le case, che sono il nostro fondo pensione. L'ho scritto 100 volte, l'ho fatto con gli amici della Confedilizia altrettante migliaia di volte. Se vai in un locale gay con il pugno chiuso ti saltano addosso. Boh, non ho capito che vuol dire. Altra cosa molto divertente oggi è tutti i commenti su Bibi Netanyahu, che ha il problema di essere israeliano e di destra. Capite voi allora che cosa posso leggere sul Sole 24 Ore, sul Sole Netanyahu, un uomo che allontana la pace con i palestinesi, come se questi la volessero la pace. Sole 24 Ore, ma anche Repubblica, Bibi e la sinistra scomparsa. Per fortuna, per fortuna, che c'è Giulio Meotti sul foglio. Segnatevelo, Giulio Meotti sul foglio, in cui racconta le cagate pazzesche degli intellettuali e dei giornali israeliani, che sono esattamente quello che rappresentano in Italia i giornali conservatori, i conservatori del vecchio sistema, conservatori francesi del vecchio sistema. Cioè, Netanyahu ha saputo rappresentare l'identità nazionale e quel po' di liberismo dice Meotti che è riuscito e cerca di sradicare l'egemonia gramsciana socialista che ha sempre vissuto politicamente in, come si chiama, in Israele. Favoloso! Meotti, leggetevolo come sempre perché c'è da imparare. Ma perché hanno bloccato un profilo su Beskuk, chiede Gaetano Alba, perché sostenevano che quelli di Casa Pound incitavano all'odio. Cosa che non si deve ovviamente fare, ma insomma, io mi sembra di capire che ci sia un certo attenzione nei loro confronti superiore a quella degli altri. Bene, direi, Giovanna dice, bravissimo Giulio Meotti, aiuto, ma quanto caffè ti prendi prima dello start? Niente, adesso stanno andando a giocare a tennis, altro che start. Tiziano Leoni mi chiede la questione Libia, me lo chiede invece su Instagram. La questione Libia è molto semplice perché sembra che Repubblica, cosa che mi sono dimenticato e ringrazio Tiziano, abbia detto che gli italiani stanno trattando con Aftar, cioè quello che sta occupando Tripoli militarmente, e che quindi ci sono trattative segrete in corso. Anche se con Aftar c'è poco da trattare perché lui viene diretto dai soldi dell'Arabia Saudita e dei Salafiti e dai francesi. Bene, grazie per la buona partita, grazie a tutti quanti voi per avermi seguito. Troverete questo e tante altre informazioni su nicolaporro.it e vi segnalo che oggi pomeriggio una rispostina alla murgia che mi dice che sono un disonesto intellettuale, beh, glielo farò una rispostina alla murgia sul sito nicolaporro.it Ciao, chiudiamo prima.